Anche se durasse una sola settimana, dobbiamo fare e pensare come nell'Italia di oggi e di ieri non si è fatto e pensato. Con le parole di Ettore Tibaldi pronunciate in occasione della prima riunione della giunta provvisoria di governo della Repubblica Partigiana dell'Ossola, il manifesto ufficiale pubblicato dal comune di Domodossola annuncia le celebrazioni per il 79esimo anniversario dei 40 giorni di libertà, in programma venerdì 6 e domenica 8 ottobre. Se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.